Ok, ragazzi, oggi vi mostrerò come fare un disegno se non siete molto artistici. Prima di tutto partite da uno scarabocchio, va bene? E iniziate così, un po' così e così. Aggiungete dei colori, in base a quello che volete fare. E dopo un po' vi dovrebbe uscire questo. Ecco, questo è il mio risultato. Fatemi vedere il vostro.